Riprendono i lavori per il completamento della rete idrica e fognaria nella zona di Lama, Talsano e San Vito. Da Via Orate in particolare, consigliere, lei ci ha tenuto a un pressing per far ripartire i lavori dopo una serie di stop burocratici, attesi da tanti anni questi lavori. Sì, dopo 50 anni finalmente questi cittadini avranno le opere primarie. Sono dei lavori che ho richiesto personalmente nel 2021, approvati nel 2022 e finanziati nel 2023. Quindi finalmente arriviamo al cantiere, subito dopo queste vie ne faremo altre come Via Calatamacchia, Via Piescecani, Via Cicas, Via Scampi, Via De Falco, Via Narcisi e Via Lucerne. Nel frattempo stiamo preparando i collegamenti qui dietro alle spalle di Via Orate che è su Via San Cataldo, in maniera che tutto il complesso di Via San Cataldo si può collegare alla nuova fogna, così come quello che stiamo facendo in Via Lago di Nemi nel tratto che va da Via Ancona a Via Unitea d'Italia. Insomma un bel lavoro, un bel passo avanti. Ad intervenire è l'autorità idrica pugliese, insomma il braccio operativo dell'acquedotto di concerto con il Comune seguirà anche una ricognizione. Poi sappiamo che ci saranno delle novità per la Marina di Taranto. Sì esattamente, aspettiamo la ricognizione delle vie da parte del Comune, il lavoro sarà pronto fra circa due o tre settimane. È stato incaricato un geometra con il quale sono in strettissimo contatto e chiaramente mi sto impegnando personalmente affinché anche alla Marina di Taranto nel tratto che va da Litochecca alla Torretta per portare anche lì i servizi idrici e fognari e in progettazione il tronco primario. Chiaramente lì è molto importante anche per la questione commerciale, ci sono degli stabilimenti malinari molto importanti.